Il progetto che era nato nel 2014, il sindaco Paolucci, sta avvolgendo al termine, sono passati quasi dieci anni perché siamo già all'ottavo anno e tutto quello che era stato proposto e promesso in campagna elettorale è stato fatto. Quindi è una tavuglia sicuramente modificata, cambiata, abbiamo costruito due palestre che erano importantissime sia per la mattina per la scuola sia al pomeriggio per le persone che volevano avvicinarsi allo sport. Stiamo costruendo adesso, ed è una delle opere più importanti di quest'anno, la scuola primaria di Tavuglia. Purtroppo la scuola era vecchia, anche se l'abbiamo detto mille volte, forse quella che è più robusta per il terremoto, però ha ormai tantissimi anni e non era più adatta anche per le aule, per le stanze che c'erano a disposizione. E speriamo che a settembre 2023 i bambini possano entrare nella nuova scuola, che è veramente bella. Tante opere, sì, molti investimenti. Penso che alla fine saremo sui 20 milioni di investimenti, zero debiti. E questa è una cosa a cui tengo molto a evidenziare, perché dire di aver fatto tanti investimenti potrebbe essere facile quando ricorri a mutui finanziamenti. Invece noi ci siamo strutturati per cercare tutte le forme di finanziamento statali, europee o regionali che si potessero utilizzare. Arrivare ovunque delle volte non è facile. Però devo dire che il bilancio di questi otto anni io lo definirei molto positivo. Abbiamo anche ridotto l'indebitamento, siamo passati da 160 euro pro capite a 36 euro. Quindi dovremmo riuscire quasi ad azzerarlo alla fine del 2023. Quello che avevamo promesso l'abbiamo già realizzato. Adesso stiamo già portando avanti una pianificazione per quello che anche i cittadini ci suggeriscono come necessità. Quindi l'ascolto non è mai mancato. Abbiamo sempre cercato di dare soluzione alle necessità dei cittadini e del territorio. L'investimento più grosso, parliamo di 500 mila euro, per aumentare la capienza del cimitero di Tavuglia. Perché purtroppo abbiamo avuto da una parte una frana molto importante che ha visto protagonista tutta la parte vecchia del cimitero. E quindi dobbiamo senza meno intervenire. E nel frattempo aumentare lo spazio perché non ci sono più loculi. Quindi questo è un investimento molto grande ma che i cittadini di Tavuglia capoluogo si aspettano perché fa parte della civiltà di tutti dare una degna sepoltura ai propri morti. È importante mantenere quello che si ha. Quindi vengono sempre messi a bilancio parecchi soldi per le manutenzioni straordinarie. Poi le asfaltature delle strade comunali che hanno sempre bisogno di essere riviste. E anche questo è un argomento che la gente chiede spesso. E in più non è faria del nostro sacco ma fa parte di una collaborazione che è partita sin da subito con l'ANAS. Verrà rifata tutta la strada provinciale feltresca il prossimo anno.